Cumbulla, è appena finita la partita, contro una squadra che a breve inizierà il campionato, quindi anche fisicamente preparata, pronta, però il Verona ha risposto bene. Tu hai giocato tutti i 90 minuti, com'è andata la tua sensazione dopo la partita? Secondo me è andata abbastanza bene, abbiamo giocato per alcuni tratti anche molto meglio di loro, sappiamo che loro comunque faranno una settimana a inizio del campionato, quindi sono già più avanti fisicamente, comunque devono giocare e noi abbiamo ancora tempo per lavorare, per migliorare e vedremo adesso, comunque ci alleneremo ancora al massimo e vediamo di migliorare ancora. Hai vissuto il ritiro tutto con la prima squadra, ricordiamo l'età, sei molto giovane, come è andato questo ritiro? Come ti trovi con il mister Grosso, con i compagni? Raccontaci un po'. Io mi trovo personalmente molto bene, anche col mister mi ha sempre messo dentro il gruppo, mi ha sempre dato consigli, anche col gruppo mi trovo molto bene, siamo un buon gruppo, dobbiamo ancora lavorare per diventare una vera squadra anche in campo, però col lavoro possiamo arrivarci e poi possiamo anche trovare delle belle soddisfazioni.